Musica A guna matata ragazzi, ben ritrovati dal vostro CiccioGamer89 Finalmente siamo riusciti ad organizzarci una bella partita su Halo 4 Come potete vedere dalla schermata c'è Artificial Hop Ciao Artificial Hop Ciao Abbiamo il nostro Atletico Valerio Sì, ecco Ci abbiamo Access Flame Ciao a tutti ragazzi E ci abbiamo Dark Gear 97 Ciao a tutti Ci abbiamo Dark Savior 97 Ciao ragazzi E TFS Tecmo Ciao a tutti Tutte persone che mi seguono sul mio canale, tranne una che è Atletico Valerio Tanto se non lo dicevo io, lo diceva lui Quindi giocheremo in una partita Grande Massacro a squadra Infiniti Quando la troverà? Un giorno la troverà Un giorno la troverà E magari nessuno casca Allora Eccola Giocheremo in una partita tutti quanti assieme Più di una partita Perché già che ci stiamo Registreremo più di una partita E le divederò E le up però In diversi giorni Qui vediamo il bellissimo Spartan Quarto di Artificial Hop Quello di Atletico Valerio Il mio Spartan Poi abbiamo quello di Flame Che è a livello 61 E' stato annullare il matchmaking Perfetto Trova una partita Grande Massacro a squadre Hai iniziato bene No, ce la faremo ragazzi Ce la faremo veramente Atletico Valerio ha lasciato il gruppo Per quale motivo? No, non ho fatto niente io No, no, non sei nel mio gruppo È sola sociale È sola sociale Non è indietro a nulla Non sei nel mio gruppo Bene Benissimo Ok Inveniamo ora Che l'abbiamo chiccato però Ah, molto probabilmente Molto probabilmente Appena riusciremo a trovare una partita Potreste sentire qualche beep D'accordo? Ah, potreste eh Potreste sentire qualche beep È solo un errore del microfono Non abbiate paura Che è tutto normale Esatto Non vorrei già Fa abbassa lo share Con questa affermazione Però c'è una connessione veramente Di merda Beep Vabbè Tranquilli che anche questo è normale È la scusa di chi fa schifo a giocare Esatto In una settimana mi attacchano un passo Se sono bravo sono bravo Se perdo è la connessione Ma è sempre stato così Esatto Anche su Gias In una settimana mi attaccano un passo Per quindi stare zitti In una settimana mi attacchano un passo Io ce sto Perfetto È stato necessario annullare il matchmaking Va bene Allora questo video sarà tutto così praticamente 45 minuti In ricerca grande massacro No Mirko taglierei sto pezzo E farei lo stare a mano No senza tagliare sto pezzo Tutto in prestigietta E soprattutto mettete mi piace Guarda su 5 minuti Mi raccomando Esatto Esatto Allora Vabbè questo pezzo Sicuramente lo tagliamo Comunque Comunque Bene Interessante Allora Io decisamente Vai a ostare tu Simone No io direi Lasciami il leader Che non mi ricordo come si fa Allora Però No Commuvi al leader Ok Adesso mi caccio tutto Ah Pronto Tututututututututuch Grande massacro Mi raccomando Cioè 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 mi dice che succederà la stessa cosa a me però non mollare c'è uno col triangolino in testa lì è cosa di Zelda quello di la tricolazione insomma tre piramidi troppo bello mi sa dirti in casino Dio datti la forza di giocare a questo alo per favore se anche voi vi state divertendo comici telespettatori mettete un mi piace per commentare sotto questo qui sarebbe gioco ma perchè non parto le partite olè oh regà ma io sono entrato però io sto a giocare ma come stai a giocare sono già ammazzato Valerio 4 volte ah ok perfetto eh si si confermo non so il tipo di problema che ci sia ma regà siamo uno o meno chi è caduto? Savior ok a nulla a nulla 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 no siamo partiti Savior cerca di entrare più velocemente no è a nulla infatti non siamo partiti ah ok perfetto 1 2 3 4 5 7 eh ci siamo tutti posso partire io non vedo ok vai vai mi raccomando ci sono dai Mirko Chuck 2 riparti e allo dovrebbe essere il gioco col matchmaking più bello al mondo si ma quale allo 3 scusa perché tu non l'hai detto per l'affermazione e la schermata per me serve qualcuno con una grande connessione ragazzi no non è un fattore di connessione no non c'entra niente già uno sono persi proviamo a buttare giù tutto rifà tutto si decisamente dai butta buttamo giù butta giù e invita mi Simo io non so io sono tornato indietro ok ok invita tutti dai invita tutti a qualcuno mio dai qualcuno che c'è la connessione buona invita a tutti dai chi c'ha come sono state messe le connessioni ti caccio tutti io ho 8 mega che mi arriva 2 e mezzo un cameretto io ho il telefono senza fili ok eh tecmo ma c'è tanto io devo tenere devo tenere filo stesso altrimenti cacca io sto attaccata la wifi per vicino raga dai provo io eh Savietor come stai messo la tua connessione eh si non troppo buona però ok vabbè posso oh qualcuno con una connessione ma siamo tutti poveri ma ce la provo io vai 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 in una settimana pari a passo per soli che almi abbiate vede vabbè o sarà il video lungo la settimana allora aspettavo che ti arrivi allora chi è che mi deve invita tecmo ok arrivo tecmo mi piace la tua grinta unisci del giocatore impossibile partecipare abbiamo capito di chi è il problema no non ci sono ok a posto chiccalo e si fa una partita avrei dico volerio invita nel gruppo no what is che cazzo ci entra ok perfetto poi ci abbiamo artificio roba declinio e invito io entro come me pare vedi ho manco bisogno di invito ok declinio e invito vai a posto siamo tutti partiamo ok no non siamo tutti mi sta caricando ok ok qui abbiamo tentato nuovamente di ricambiare stanza 1 2 3 4 5 6 e 7 la prima azione è la prima lezione è gratuita ragazzi quando vi iscrivete al corso le altre sono tutto a pagamento e quasi quasi sto video lo metto tutto così forza che fauna parte divertente dopo inizioni e bestemmie probabilmente è un'unica parte che qua non trova nulla infatti si chiama halo caffè c'è tecmo c'è tecmo che c'è una connessione potentissima ok è stato necessario annullare il match io direi di fare un bel regicidio tutti contro tutti e la famo è cascato di nuovo qualcuno chi cade salio aspetta dobbiamo provare per forza a fare una cosa esatto parte 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 un attimo così no aspetta aspetta ho capito quale problema chi capore valerio stava a posto allora se messo se messo lo spartano rosa cioè fallo vedere ti prego allora savi or arrivo tranquillo no no tranquillo tranquillo ok matchmaking infinito va bene sì sì impossibile caricare le informazioni da xbox live abbiamo scoperto il problema ma se lo fa di nuovo andiamo tutti in dashboard e si mette in gioco è l'unica perché sennò io stacco proprio a presa le case aspetta 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 io vado alla centrale della telecom mi stacco tutto e riattacco aspetta esatto a centrale della città io direi di andare in dashboard ma dai sì andiamo in dashboard non costa niente ragà dai tutti in dashboard tutti in dashboard dai e però fa la faccia allegra e tutti in dashboard firma firma pura la dashboard però guarda io ti propongo una cosa metti pezzi di questa conversazione finché non giochiamo però gli spezzetti per tutte le volte che fai i tagli desti video sì sì senza problemi tipo quello che è successo mentre ci provavamo sì no mi avrebbe una cosa bellissima bellissima mentre cerchi una partita sua alo alo 3 quali non sarebbero mai successe queste cose mette malo 3 allora io propongo di mette ghiaz 1 non se ne parla più per me va bene dopo se vogliamo fare l'azzozzata facciamo pure il video provo a riostare nuovamente io con te riproviamo che prima è andata male come cosa allora dai entrate tutti da me unisci del giocatore chi è caduto da skype certo la fizione cinematografica valenza manco che vuol dire adesso li fa finta c'è ah ecco appena partito guarda come è bello è caduto da live ragazzi qualcuno è caduto da skype qualcuno è ben ritrovati al nostro canale ciccio gamer 89 allora ci siamo tutti? no io adesso vai invidami manca qualcuno io ci sono eh manca qualcuno se non sei l'altro dark qualcuno mi dà salvatemi da valerio porco bip allora io intanto ristupo ehm un cazzo si pronuncia l'arco ma scusa l'arco ma scusa l'arco ma scusa l'arco manca l'altro dark cosa dark cazzo sapio dove sei? io ho dovuto riaccenderla ah vabbè ok abbiamo capito qual era il problema comunque mi dico mi dico mi dico ti sento laggare valerio non fare mica mi dico 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 erano giorni però giusto abbiamo adesso adesso ti dirò una sa una verità proprio assoluta ascoltatevi bene allora asa eh 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 e così ma comunque chi è il leader di questo gruppo follow the leader follow the leader c'è atletico valerio è il leader del gruppo non c'è stato coschi lo sa ha fatto a cazzo le stanza porco ciuda sei mongoflettico allora scusate un secondo io non ho visto il me di cazzo valerio sta in aggando allora salio ora muo venga prenduto a casa te muovi? eh appena si connetta a xbox live ah ah io ho capito il problema ok dovrei arrivare grande guarda sulle palline dell'autobus è che ora passa grande anzi mo faccio un video con scritto tentare di giocare su halo 4 video a parte mission impossible porco 2 fai esserci cioè ma non ho capito io faccio i gruppi e valerio diventa leader non ho capito non ho capito non ho capito come è possibile non ho capito sta cosa non ho capito no non ho capito cioè io ho fatto ho creato la stanza ma ha scritto vi siete lì con me sto a senti male posso te sentimo noi va bene così valerio io non lo sento a valerio no no ragazzi tranquilli mi senti sì perfettamente perfetto io non ho ci sei? valerio ok allora per favore entra esatto entra per cortesia se ci sei sto perdendo la pazienza sono il leader del gruppo e ho una connessione che è a a flotte di 15 minuti valerio non stare troppo attaccato che prima ti si sentiva meglio adesso me sentite? sì no no raga mi devo dire se me lagga perchè quando me lagga io non te lagga no 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 non te lagga ti senti molto allora non dovete parlare no raga non dovete parlare otto insieme perchè non qui c'è buco no 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 problema che gridi mi sentite adesso mi sentite adesso mi sentite adesso non trovo il gruppo raga no saviore io non te vedo proprio no saviore non muovere da tutti noi entrare nel gioco non ce n'è parte eh infatti ma perchè non metti il gioco saviore puttana Dio melone Dio banana Dio melone Dio panana sa viore no non me puoi saviore non me puoi fa certe cose cioè nel senso metti il gioco saviore è dentro il gioco sì ma metti avvialo ah ecco ah ecco che doveva aah ahahahh che mancava qual cosa cazzo accadesse mancava qual cosa cazzo mancava qual cosa all'equazione oh ho Eppure la grafica era caruccio, ma non mi ricordavo che si sparava su questo vallo. Sì, vabbè che c'è, è fatta bene la dashboard, però... Vedi troppo sintonizzati, Valerio, adesso ti chicco. Dai, regà, su che gli afamo, gli afamo, regà, gli su che gli afamo. Cioè, la cosa bella è che qua siamo fortissimi, meglio che non parte il gioco, perché c'è una pippa, capito? Cioè, qua posso far fico, dico, ah, vedi le battute, come è simpatico quell'artificio l'opera. Ora lo aggiungo sulla lista amici. Ma se vede come gioco fanno male, lascia perdere. Alla è pipparzuco, perde sempre, ma non è. Uno, su un 4, la porta uccisioni 0,8, 0,2. Davio, non è un'alcolista anonima, stiamo qua a giocare. Ok, lo vedo, lo vedo. Ciao, sono lo spasciato a 526, anch'io ho fatto uso di alcol. Davio, ci ho impilato per cortesia, entri. Arrivo, arrivo. Tranquillo, non ti preoccupare. Ma tu abiti, perché io sta Roma non mi sono così tanto per i baci. Non mi faccio. Anzi, questo qua, lo titolo ero, Dark Xavier. Non riesco a entrare nel gruppo. L'uomo che rovinò allo 4. Ragazzi, non riesco a giocare, ragazzi. Perché non ti dà un fai, mi sono modificato, non mi fa scegliarmi. Ma cazzo, connessione di merda. Mo spawni come su Gears 1, senza armi che te regge il sedere per correre. Dai, dai, che ce la fai quasi, dai. Ricordi quando spawnavi col cagotto su Gears, durante le clan world. Comunque, Savior, se anche non riuscissi a giocare, sei tranquillo che nel bio di cimento. Ah, grazie. Questo è il video. Ok, poi giocare. Il ragazzo non riesce a giocare. Savior, riesce a entrare, Savior. Non, non, continuo a dare accetto, ma non, non, non. Dai, allora si vede perché non riesci a caricare i contenuti di là, lo sicuro, ti dice. Scusa, ma, c'hai, molte, faccio una domanda, non fate battute, non fate, non siete infantili, c'hai il Nat aperto. Penso che sì. Io vi sento ridere sotto, avvicinate quel cazzo di microfono. No, ho nato sconosciuto. Nat sconosciuto, ho capito qual è il problema. Senti, ma tu abili nel paese che... Alla, senti, infatti, facciamo così, noi ci facciamo una partita. Tu prova e tu prova, esatto, prova a riavviare il modem. Va bene? Vai. Allora, ho trovato tre giocatori, sì, ero quello frutto. E andiamo, e non gioca più. Arriviamo al modem. Sì, ma mi dovrebbe iniziare col video, ma adesso che... No, c'è, penso io, a fare una chi-detto rucca. Raga, per simpatia adesso tutti sulla Dashboard. C'è, 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 c'è. Ciao, benvenuti a tutti, questa è felice. Ciao, bello, e a cuna matata, ragazzi, e benvenuti sul canale di CiccioGro. Avevo tant'copene. Raga, trova tre giocatori, morconne, manca altri due ore. E poi, e poi, e poi, e poi, e poi, però, non sta partì, ma che sta, al-Mesh making, in-Savier? Ma non manacchio, ma non manacchio. Ma non manacchia, ma non manacchia, ma non c'è, non manacchia, ma non manacchia. Ma non manacchia, ma non manacchia. Io, però, ti ho fatto un'occhiolina all'inizio. Ti ho detto, ti ho detto, ti ho detto, ti ho detto, un piccolo. nel frattempo ci sentite chiede abbiamo perso saio perché in realtà sconosciuto e stiamo riuscendo a trovare dei giocatori giusti ho perso quattro giorni a prima non capisco io ero migliorenne quando inizio il matchmaking oddio raga siamo 60 immagini entramo in la gara alla gavessia che spettacolo se gioca uguale non mette questa mamma mia e ce la fa è grande savio incredibile sono ciccio gamer se il video ti è piaciuto lascia il pollicione se non sei un formato e se non lo lasci stai pur sicuro che prima o poi ti si incula un paguro oh yeah